La Tiberina Trebis passerà ad Anas. La notizia è stata data dall'assessore regionale delle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli nel corso di una riunione sulla riassegnazione delle competenze sulla viabilità convocata a Roma dal Ministero per le infrastrutture di trasporti. È una notizia che attendevamo da tempo, spiega Ceccarelli, che abbiamo a lungo sollecitato anche con lettere in accordo con la regione Emilia Romagna. Pochi giorni fa, prosegue l'assessore, abbiamo dato notizia del fatto che Anas si era fatta carico dei lavori per la riqualificazione della strada che ci aspettiamo possano partire a primavera. Oggi giunge un'altra bella notizia, visto che quando la strada sarà finalmente ripristinata, Anas ne diventerà responsabile al posto del comune di Piave Santo Stefano e dunque potrà garantire quegli interventi di manutenzione che risulterebbero proibitivi per le casse di un'amministrazione comunale. Con la riunione prende il via un iter burocratico che prevede la necessità di un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poi della conferenza Stato-Regione e infine un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al termine di questo percorso, che durerà alcuni mesi, ci sarà il passaggio formale ad Anas della competenza sulla Tiberina Trebis. Nel frattempo saranno svolti lavori sul tratto tra Piave Santo Stefano e Vergreto. Ricordo, ha aggiunto Ceccarelli, che la Tiberina Trebis rappresenta l'unica alternativa all'Ai45 e quanto sia importante questa alternativa, lo sappiamo.